Sto cantando il Nabucco e nel liceo di Barcellona, il famoso liceo di Barcellona, e io vengo sempre qui alla boccheria perché è un posto meraviglioso, un posto dove c'è tantissima cosa buona da mangiare, la più buona di cui vi ho. Con gli ingredienti che abbiamo comperato al mercato della boccheria, vi prepariamo un cannellone con ricotta fresca e spinaci, buonissimo. Il Nabucco è stato importante per l'Italia perché quando cantarono il Vapensiero, gli italiani pensavano a loro, non pensavano agli ebrei perché erano oppressi dal popolo, o dal popolo austro-ungarico. È stata la prima opera che Verdi ha pensato come protagonista un baritolo. La facciamo saltare, quello che abbiamo tagliato facciamo saltare in una padella, con un filino di olio e ora la ricotta. Il Nabucco io sono dieci anni che l'ho debutato, l'avevo debutato in Arena di Verona, penso, molto difficile è stato. E a distanza di dieci anni ho capito molto del Nabucco perché innanzitutto sono diventato più uomo io, ho preso la mia voce studiando sempre di più, applicandosi sempre di più, ha preso sempre più colore. Riempiamo, è il sacco, così il Vapensiero è un pezzo che conosce tutto il mondo. Io quando canto nel Vapensiero, che dopo tocca entrare in me per fare la mia aria cavalletta, mi fermo sempre a sentirlo perché credo che nel Vapensiero ogni pubblico, pubblico italiano, pubblico spagnolo, pubblico americano, pubblico giapponese, pensa un po' al loro popolo, cioè perché tutti i popoli hanno sofferto nella vita. Il plato è finito, prepariamo una vinaigrette con tomate secca, pomodori secchi. Intanto dovete venire a vedere il Nabucco di Abbado perché è una bella produzione, cioè una produzione moderna ma non dà fastidio, cioè è intelligente. Bina all'Iseu, con una buona comida e una buona opera. Ciao!